C'è che se non sappia cosa mi vedono nel mio regale, oggi siamo così a un nuovissimo video, video, sarò stavolta sul calcio, come vedete, vi divertirebbe il divano, che avete visto come lo scorso video, ecco qui. Ok, noi giocheremo con questa palla, partendo da la, 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 non ci stanno più giustamente, quindi poi, poi diventerà ancora più difficile, partiamo. Primo round, via. Uff, ho sbagliato, ho sbagliato, questo divano delle super di mano, no, no. Ciao! Tieni sono due impiari ruoli, troppo calcio! Coppa! E posando dimaan? Oli! S темmente! Oh lo so, buva! Oh! Oh! Passarekke лучше più canto dappare ir같i? Надziah! Vi armed стол, vi 지금! Grazie. 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 Seine. mamma del col mamma del col doppio stacolo stavolta isi passo stavolta in un MAT stavolta stavolta yan la cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che se sbaglio si ricomincia da livello non c'è un maledetto 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 mamma mia non c'è un maledetto 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 questo non c'è un maledetto non c'è un maledetto non c'è un maledetto questo l'ostacolo ok il primo colpo questo è un ostacolo questo è un ostacolo piccolo qui l'avevo visto mamma mia ok io vi saluto vi ringrazio per la visione del video, ciao